Leclerc che si attacca, si attacca Lando Norris, ci prova Charles Leclerc, ci prova con Lando Norris che gli concede di andare di lì ma tira la stacchetta all'esterno, fumante, la ruota anteriore di Norris, Leclerc va, Leclerc va e va a caccia, incredibilmente, è la terza posizione con Norris che però non ci sta.